Ciao a tutti i virus e benvenuti in questo nuovo video Oggi Di che cosa? Dici, dici in asta cazzata Di Cleverbot Ma come cazzo si legge? Di Cleverbot Cleverbot è tipo Un cavolo di Un computer Un computer vivente Possiamo dire No Un robot che messaggia con te Fa veramente ridere L'altro giorno mi ha detto mi vuoi sposare Io gli ho detto di se Però poi se è chiusa la pagina Mi ha mollato Adesso scriviamoli Ciao Cosa gli possiamo scrivere dopo? Ciao amore No, che cosa? No, dopo gli scrivo Mi vuoi sposare Ciao, te ne vai E come sei no? Oh, ha detto ciao, te ne vai Affangulo tu Affangulo Non è che è una persona Veramente che sta parlando Ma come stava detto ciao, te ne vai Pizzo, ma va 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 Ma che stronzo Coglione Vaffanculo Lol Che cazzo Vaffanculo Domanda lol Ma questo non è che Michele Scusa ma chi sei tu? Ma se Mi vuoi sposare Mi Vuoi Sposare Io poi attendo Adesso la do La risposta Mi vuoi sposare Non voglio vedere Non voglio vedere Non voglio vedere No Forse Mi vuole sposare Veramente Veramente No Oh mio dio Questo mi vuole sposare Aiuto Sto scrivendo Una minchia Questo Veramente No Questo No Questo mi vuole sposare Angelo Vuoi dire Cosa veramente Non si ricorda neanche quello che dice Parla Parlate Questo qua Meglio che non dico Chi è Però Perché neanche io lo so Però Credo che Daniel si sta un po' preoccupando Sì Forse è uno stalker Che ti sta vedendo Da una finestra Chi è quello? Lo sto vedendo È troppo così spara Sto sonato No La mente è quello La mente è quello che spara Adesso sono io Adesso spariamo Cosa gli possiamo dire Sparami Dì Cosa gli possiamo dire Giucciami il calzino Giucciami Ok scriviamo Giucciami Giucciami Il calzino Amo C'è scritto Giucci Giucci Giucciami Giucciami Il calzino Il calzino Stai dritto Giucciami il calzino Baby Adesso cosa Ma secondo te Cosa avrà capito Come faccio Se non hai un calzino Qua tengo Due belli calzini Che ti aspettano Ma e quali Tengo i calzini Ma secondo me Questo è un altro uomo Che sta stalkerando Un'altra persona E pensa che sono io No Forse Scusa Ma tu che hai fatto Cosa Cosa sarebbe Sto qua Lo tengo No Ragazzi Io con sto Cosa mi sbatto Oh mio dio Comunque Tengo miedo Che cazzo Tengo miedo Vabbè Comunque almeno Ragazzi Ragazzi Almeno 5 like Per questo video Se ne volete Un altro Di clever Ah E' un momento Per piacere Detelo per i miei amici E' un evento Per voi E' un mandato Gli iscritti Abbiamo capito E noi possiamo pure Farvi il vostro canale E come avete Nell'altro canale Che abbiamo fatto prima Dice Diteci Quello che vorrei Diteci Quello che vorrete E noi Ve lo faremo vedere Ve lo promettiamo Mi scopi Sull'onore di 2444 Io ho detto Mi scopi A domani No Ma se dice Sì Io mi metto a rire No No Sì Di mattina Ti va bene Mi fai Mi Mi masturbi Masturbi Pi masturbi Cosa Come cazzo Mi scrivo Venite qua vicino Pi masturbi Che cosa Io sono un maschio Io una femmina Io Io Un transessuale Io sono Io una femmina Tu hai scoperto Che tu sei un uomo Sessuale No Quanti anni hai? 34 Avanzati da 100 100 100 100 100 1 1 1 Ho scritto 100 Dove Ho scritto 100 Ho scritto 100 Forse 9 C'è dato Vecchiaccio Sono giovane Sono Gio Sono 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 giovane Gio Va Ne Sono giovane Sono Perché ho 100 anni Mica aveva voglia Di fare l'amore Con il sapore Io Sì No Boh A te Tutte l'età Anch'io Ma sono Più giovane Di te Quanti anni Ha Quanti Anni Hai Ok Abbiamo iscritto Va bene Quanti Ha Dopo L'ultima Cosa E poi Chiudiamo Il video Te l'ho Detto Quando Te l'ho Detto Quanti anni Ha Domani Mattina Forse Non Poi Mi Sposi Io No Se Dici Chiudiamo Il canale Perché Mi Vado A Sucare Con Lei Dentro Una Villetta In Campagna Così Tutti Che Maschina Ma Io Sono Femme Sì Ti Amo Ha Detto Sì Ti Amo Perché Ti Ho Detto Che Sì Perché Ti 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 mi sto divertendo un mondo come stai? ciao comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e ci vedremo ma tantissimi e commentate condividete e mettete molti soprattutto se no vengo a casa vostra questo è il risultato ciao io sto bene con la mazzaretta vengo a masturbare qualcuno della vostra famiglia Antonio mi sta Antonio la grande mi sta facendo qualcosa no no quella cosa che voi pensate mi sto facendo scrafassando la casa e io sono dando ad Angelo non urlare porco giuta spero che vi sia piaciuto e ciao virus